Che cosa un italiano deve tenere presente quando pensa di realizzare questo sogno? In negativo, anche dopo tutte le cose, il rovescio della medaglia. Assolutamente sì, cioè io non diciamo sempre che Dubai, nonostante tantissime opportunità, non è che parliamo del paradiso terrestre, nel senso che è chiaro che quando uno approccia un mercato di questo tipo deve tener conto di tantissime cose. Tieni conto che chi è arrivato ovviamente vent'anni fa, trent'anni fa, con una idea diciamo innovativa è riuscito in maniera anche piuttosto veloce a sviluppare il proprio progetto. Adesso ovviamente si fa leggermente più fatica perché qui ormai è arrivato il mondo, negli ultimi quindici barra venti anni, per cui è chiaro che prima di affrontare un mercato di questo tipo occorre quello che noi diciamo sempre la massima prudenza, per cui bisogna fare i giusti passi, bisogna valutare in tutto e per tutto anche il minimissimo aspetto che può sembrare stupido ma che invece alla fine si rivela assolutamente importantissimo e farlo con anche da un punto di vista finanziario con la massima massima prudenza, per cui tutta una serie di aspetti devono essere valutati prima di affrontare un passo di questo genere, per cui mai essere superficiali e... come in tutte le cose. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ultima domanda Marco, in che cosa tu e la tua agenzia potete essere d'aiuto agli italiani che vogliono venire o a visitare o a pensare se ci potessero essere le possibilità di sviluppi per trasferirsi proprio a Dubai? Ma guarda allora innanzitutto per quanto riguarda la parte turistica, come dicevi te, noi abbiamo appunto una società che si occupa di due settori tra virgolette diversi, ma che comunque si affacciano sempre a un mercato e a un servizio. Uno, un servizio turistico, come dicevi te, per cui noi organizziamo ormai da anni tour. Abbiamo sempre impostato, siamo partiti prima, io e mia moglie, diciamo in maniera proprio strutturandosi da come una realtà familiare, perché eravamo proprio noi che ci occupavamo di accompagnare. Poi fortunatamente, ringraziando Dio, le cose sono andate sempre migliorando, per cui adesso abbiamo un team di guide turistiche italiane, però ecco quello che ti dicevo. Abbiamo sempre pensato di in qualche maniera sviluppare il tutto sull'italianità, per cui la diciamo la nostra un po' caratteristica è quella che eh di offrire e di eh in qualche maniera accompagnare e far accompagnare i nostri amici italiani da italiani che come tu sai eh cambia cambia un po'. Cambia, posso affermare in prima persona. Sì sì sì. Infatti per cui è molto è molto importante questo, per cui tutte le nostre guide turistiche sono italiane, ehm tutto il tutto è sfrutturato molto in maniera molto friendly, per cui eh io dico sempre cioè dobbiamo essere tra virgolette diciamo no amici più che guide, per cui gli amici italiani che vivono a Dubai e che in qualche maniera magari accompagnano e possono accompagnare, per cui abbiamo tutta una serie di di clienti croceristi per esempio perché qui come saprai ci sono sia sia l'MSC che la Costa che organizza tutto diciamo tutta la stagione invernale, organizzano crociere eh per cui diciamo che riusciamo a dare questo questo servizio e poi eh organizziamo non so la il cocktail al cento ventitresimo piano del Burj Khalifa, al Burj Al Arab eh abbiamo tutta una serie di servizi insomma che che riusciamo in qualche maniera a dare ai nostri amici italiani. Per quanto riguarda invece la parte quella più diciamo eh vicina al business e appunto allo sviluppo della propria eh idea e progetto, noi in qualche maniera facciamo una serie di possiamo dare una serie di servizi a cominciare da una piccola ricerca di mercato che appunto aiuta in qualche maniera all'inizio il cliente a capire se quel quell'idea, quel progetto può essere interessante per questo per questo paese appunto e da lì poi accompagnare eh appunto il cliente e per tutte quelle che sono le fasi come ti dicevo semplici che però comunque devono essere fatte per cui dall'apertura della società a tutto quello che è inerente ovviamente al al proprio progetto, al proprio al proprio business. Caro Marco, ti devo salutare, ti ringrazio e se mi fanno altre domande ti ricontatterò e ci rivedremo. Buon lavoro. Assolutamente, grazie mille, grazie. Ciao.